Mi è sembrato una riunione piuttosto partecipata, soprattutto con le idee chiare. Si parla di errore commesso dal Governo. Quali possibilità ci sono che il Governo torni sui suoi passi? Che in occasione della conversione in legge del decreto si cambiano quelle due righe. Il Governo ci fa sapere, la consigliera Marcozzi ha capito l'errore e quindi lo correggerà. Se così non fosse i parlamentari abruzzesi hanno già presentato un emendamento e la vedremo come voterà, che succederà tra qualche giorno. Se l'errore viene corretto siamo tutti contenti, c'è la soluzione al problema enorme, perché è un problema nostro come cittadini che ci viaggiamo tutti i giorni su quell'autostrada, di avere la messa in sicurezza prima possibile. Come Abruzzo abbiamo dichiarato che siamo disposti, nella strada che avevamo già intrapreso con il Ministero, di mettere a disposizione alcune opere, non quelle del Masterplan, quelle che sono contenute nel Pio Nazionale, cioè nel Piano Operativo Nazionale dello Stato, due opere per 43 milioni per fare la nostra parte, per fare questa anticipazione, e si risolve tutto, si può risolvere tutto. Sbagliare è una cosa possibile, perseverare nell'errore è una cosa abbastanza grave.